Con Andrea Marchetti che è sindaco di Chianciano Terme, comune capofila dell'evento Trofeo Coni 22 in partenza dal 29 settembre, durerà fino al 2 ottobre in tutta la Val di Chiana Senese. Un commento su questa manifestazione? Credo che sia una grande opportunità per la Val di Chiana in primis, per le nostre città e per chiaramente anche la Toscana. Credo che è un evento di portata nazionale ma anche internazionale perché ci saranno due delegazioni anche estere, una visibilità enorme per il territorio, quindi abbiniamo all'evento sportivo in sé per sé, alla gara, a questo mini Olimpiade che così possiamo definire, anche a una prospettiva di marketing territoriale. Cioè tutte le persone che arriveranno lì, credo si parlerà tra atleti e ragazzi 4.000 persone più tutti i genitori, quindi io penso si potrà raggiungere la quota di 10.000 presenze sul nostro territorio per i giorni dell'evento, una conoscenza del territorio stesso, di quelle che sono le opportunità turistiche che offre che magari in altre occasioni non avremmo avuto. Quindi credo che devo ringraziare il Cone nazionale, il Cone regionale, devo ringraziare la regione toscana perché ci hanno dato una grande opportunità che speriamo di cogliere al meglio. Grazie.